Continua il grande entusiasmo attorno al progetto Fidelis Young al centro sportivo Arca, casa del rinnovato settore giovanile bianco-azzurro. In tanti hanno risposto presente nella prima giornata di attività in vista della nuova stagione, tantissimi giovani con la voglia di indossare la maglia della propria città e farsi valere nei prossimi campionati che vedranno impegnate le diverse categorie del settore giovanile Fidelis in base a ciascuna fascia d'età. Ospite d'eccezione, uno degli ultimi colpi di mercato della Fidelis Andria, l'esterno d'attacco tedesco Oliver Kragel. È sempre un piacere vedere i ragazzi che giocano a pallone. Ovviamente fa più piacere anche fare queste cose per la società perché è bello coinvolgere anche i ragazzi giovani che un domani vorrebbero fare lo stesso lavoro che facciamo noi. Quindi fa solo piacere vedere i ragazzi felici al campo a giocare a pallone. 34 anni ed un curriculum tra i professionisti che non ha bisogno di presentazioni. Kragel è pronto a dare il suo contributo alla causa biancazzurra. La sfida vinta 6 a 1 in Coppa Italia contro il Nardò è stato un buon inizio, ma la strada avverte il tedesco. È ancora lunga. 6 a 1, la prima partita ufficiale, diciamo, è una bella partita. 6 a 1, ma ovviamente il campionato si deve sempre stare con i piedi per terra, tutti verso un obiettivo. Il campionato è lungo, sono tante partite, può diventare anche qualche volta difficile, ma si deve sempre guardare avanti e prendere in considerazione solo una cosa, che è stare alla fine sopra. Quindi può essere che qualche volta si cade, ma si deve rialzare e non mollare mai. Oliver Kragel si è prestato a foto e autografi con i giovani, un primo giorno d'attività che ha soddisfatto e non poco il responsabile del progetto Fidelis Young, Mimmo Zinfollino. Come primo giorno di scuola calcio, di attività di base, l'endusiasmo veramente è stato una cosa eccezionale. Con l'arrivo anche del calciatore della Fidelis, dove i bambini hanno visto, tra virgolette, un sogno che può essere il loro sogno da partire con la scuola calcio e arrivare a giocare nella Fidelis. Il progetto Fidelis Young nella sua fase iniziale avrà una durata di tre anni, arco di tempo in cui il presidente Giuseppe Di Benedetto ha chiesto al suo staff di far emergere giovani talenti che possano indossare un giorno la maglia della prima squadra. Le iscrizioni sono ancora aperte. Abbiamo messo delle basi importanti per creare un settore giovanile all'altezza di Andria, perché è un progetto di tre anni e secondo me fra qualche anno avremo anche qualche risultato a livello di ragazzi per giocare in prima squadra.